Centinaia di ammiratori e più di mille cuochi di tutto il mondo hanno dato questo venerdì l'ultimo saluto a Paul Bocuse, uno dei maestri della moderna cucina francese, scomparso sabato scorso all'età di 91 anni. Oggi il mondo della cucina è orfano. Abbiamo perso il nostro maestro, il nostro mentor e la nostra guida, per me personalmente, è come aver perso un padre, ha detto nel suo elogio funebre Marque Berlan, un altro dei nomi simbolo della cucina d'Oltralpe. Al funerale che si è svolto nella cattedrale di Saint-Jean a Lione ha partecipato anche il ministro dell'interno ed ex sindaco di Lione, Gérard Collomb. Tre stelle michelenne per oltre mezzo secolo, Bocuse ha ispirato generazioni di cuochi. Trasmettere la cosa più importante era solito dire, la cucina non si impara sui libri.